Allora questo è il titolo del mio intervento, io sono molto onorato di essere a questo workshop, ringrazio chi ha ideato e realizzato il workshop, voi per essere qui e anche la traduttrice che mi consente di parlare in italiano, questo è il titolo appunto del mio intervento, visto il tema del panel, gli interventi si può dire che sono accomunati dal fatto di produrre delle riflessioni sul farsi della maschilità in rapporto all'esperienza migratoria, quindi introducendo anche una prospettiva che tiene in considerazione la dimensione trasnazionale delle esperienze della maschilità. Per questa ragione oggi vi presento una ricerca che appunto riguarda la costruzione, la negoziazione, la trasformazione delle maschilità di alcuni richiedenti asilo e rifugiati africani che ho conosciuto nel corso dell'ultimo anno, di varie provenienze geografiche, quasi tutti appunto dell'Africa occidentale, quindi Gambia, Senegal, Mali, Costo d'Avorio, Nigeria, Ghana, eccetera. E analizzo anche i loro discorsi, le performance, le rappresentazioni della maschilità sia alle loro sia quelle riguardanti i soggetti istituzionali a cui si sono rapportati in qualità di richiedenti asilo e rifugiati. Credo che questo argomento possa andare nella direzione di cui si è parlato anche ieri, cioè sul fatto che esistano delle maschilità, quindi mettiamo in evidenza la pluralizzazione delle maschilità e si tratta di persone che vivono una maschilità che è altamente stigmatizzata nei loro contesti di provenienza e che con l'esperienza dei migratori si trovano a rimettere in gioco la maschilità in un modo sempre differente anche in rapporto ai soggetti a cui si rapportano. Il quadro di riferimento teorico in cui in genere situo la mia ricerca è quello dei queer migration studies. Ora intendiamoci, questa è soltanto una minima parte degli studi che ci sono in questo ambito, ci sono chiaramente molti altri studi, è un campo molto ricco che ha prodotto notevoli riflessioni a partire da prospettive disciplinari diversificate in contesti di applicazione diversificati e dal mio punto di vista il termine queer è da utilizzare come concetto analitico che ci può aiutare a vedere delle cose che altri tipi di prospettive non riescono a cogliere pienamente. Ad esempio al fatto che i richiedenti asilo e i rifugiati con cui sono entrati in rapporto acquisiscono dei posizionamenti sociali molteplici e mutevoli è che la loro costruzione dell'identità maschile cambia nel tempo e nello spazio. Si tratta di soggetti che noi possiamo rappresentare come queer in Italia ma che magari mantengono un'immagine di maschi eterosessuali a livello trasnazionale, il rapporto dei loro connazionali, alla propria famiglia eccetera. Quindi il problema terminologico esiste nel senso come effettivamente parlare dell'esperienza di questi richiedenti asilo e rifugiati. Nella mia ricerca di dottorato mi occupo soprattutto della costruzione della maschilità e dell'identità sessuale queer di cittadini senegalesi non eterosessuali e tra questi non vi sono soltanto richiedenti asilo e rifugiati ma anche lavoratori, studenti, persone in cerca di lavoro, sex worker. Quindi nella ricerca che sto conducendo tengo in considerazione una prospettiva intersezionale. Però oggi ho deciso di concentrare la mia presentazione sull'esperienza di due richiedenti asilo gambiani e due nigeriani che al momento sono rifugiati in Nord Italia. Essendo un studioso che si muove tra l'antropologia e la sociologia, la mia metodologia di ricerca è chiaramente improntata alle tecniche di ricerca qualitativa, quindi ricerca partecipante multisituata in varie zone del Nord Italia, interviste in profondità e informali non solo con richiedenti asilo e rifugiati africani ma anche con per esempio attivisti gay, attiviste lesbiche, operatori sociali dei centri d'accoglienza, avvocati, componenti delle commissioni d'asilo che si trovano a valutare le loro domande. Prima però di entrare nel tema che è evocato nella seconda parte del titolo, cioè quello dei fraintendimenti culturali che ci possono essere rispetto all'esperienza dei soggetti con cui ho lavorato, credo che sia utile dare una panoramica veramente molto breve sul tema delle migrazioni in Italia e dell'asilo in Italia. Ho riassunto qui più o meno la situazione, l'Italia che si continua a rappresentare come paese in cui l'immigrazione è un fenomeno recente, chiaro segno anche di un rimosso, proprio di un'amnesia culturale rispetto all'esperienza del colonialismo, un paese che in virtù del fatto che si rappresenta come paese di recente immigrazione ha avuto una legge che regolamenta l'immigrazione soltanto alla fine degli anni 90 e in cui comunque è indubbio che vi è stata una crescita del numero di domande d'asilo nel corso degli ultimi dieci anni e una pluralizzazione delle provenienze geografiche di questi richiedenti asilo e dei loro profili. Qui vi mostro alcuni dati, la fonte è Eurostat, non so se si vede bene, però a sinistra avete un ranking dei paesi europei che ricevono maggiori domande d'asilo, con in testa la Germania, poi Ungheria, Svezia, Austria, Italia. La linea giallo-arancio rappresenta il dato del 2014. Nel 2014 l'Italia era al terzo posto, adesso si trova al quinto posto, quindi le linee blu rappresentano il 2015. Sulla destra vedete il ranking invece delle nazionalità, cioè dei paesi di origine, dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Non so se leggete bene, però ve li leggo rapidamente, Siria, Afghanistan, Iraq, Kosovo, Albania, Pakistan, Eritrea, Nigeria, Iran. È interessante confrontare il dato europeo con quello italiano, sempre sugli stessiani, però una fonte diversa, il Ministero dell'Interno, che mostra come soltanto il Pakistan e la Nigeria sono nella classifica italiana, nel senso che paesi come Gambia, Senegal e Bangladesh non li troviamo nel lenco delle nazionalità che vi ho mostrato prima. Rispetto al tema dell'asilo, ci sono tra questi richiedenti asilo anche delle persone che presentano una domanda di protezione internazionale perché ritengono di aver subito persecuzioni o hanno paura di poterne subire in virtù del loro orientamento sessuale o identità di genere. La normativa di riferimento che consente loro di presentare una domanda d'asilo per queste ragioni è la Convenzione di Ginevra del 1951 che esplicita i criteri di elegibilità del rifugiato. Questa è la definizione che ne viene data, come potete vedere non è menzionata né la questione di genere né quella della sessualità, però normative successive hanno esteso il significato di questa voce che ho evidenziato qui appartenenza a un particolare gruppo sociale facendovi rientrare anche le persone LGBT. Non esistono statistiche in Europa su quanti richiedenti asilo rifugiati LGBT ci sono o presentano comunque domanda per questa ragione, con eccezione della Norvegia, mi pare del Belgio. E da una ricerca comparativa che comunque è stata fatta nel 2011, un primo tentativo di sondare questo tema a livello europeo, la ricerca flingomofobia, sorprendentemente l'Italia emerge come paese produttore di buone pratiche. Questo è un fatto abbastanza sorprendente, cercato di ragionare anche sul perché e questi sono alcuni punti che distinguono in parte l'Italia rispetto a degli altri paesi europei. Innanzitutto l'Italia non distingue nel recepire le domande d'asilo, dei richiedenti asilo, tra paesi che criminalizzano atti sessuali, omosessuali, consensuali e paesi che non li distinguono. Poi non ha una lista di paesi che vengono considerati sicuri, quindi anche persone provenienti da paesi in cui non ci sono guerre, per esempio presentano domande d'assilo, tranquillamente. Non viene valutata l'ipotesi di rigettare la domanda e far rimandare la persona nel proprio paese dicendo se ti nascondi o se cambi zona del tuo paese puoi tranquillamente vivere la tua omosessualità o transessualità. E poi a questo punto l'ultimo fattore è che la criminalizzazione diventa un fattore di per sé autoevidente di persecuzione, ovvero si ritiene, in Italia si ritiene, che se un richiedente asilo proviene da uno stato in cui esiste nel codice penale una legge che sanziona i rapporti omosessuali, questo è sufficiente per essere una persecuzione. Quindi la valutazione della sua domanda si basa unicamente sul fondato timore di essere perseguitati in virtù dei propri comportamenti sessuali e accertarsi della reale omosessualità o transessualità del richiedente o della richiedente. questo quadro credo che sia in parte confermato da queste testimonianze su cui non mi soffermo, si tratta di un operatore sociale e di un attivista gay che hanno seguito molti casi di richiedenti asilo ai rifugiati e dimostrano come la situazione italiana sembra essere sorprendentemente favorevole rispetto a questo tipo di claim, ma vorrei passare a questa seconda parte della presentazione al tema dei fraintendimenti culturali, quindi passare ai casi dei due rifugiati gambiani e due nigeriani di cui parlavo prima. Allora, ho incontrato questo richiedente asilo, Robert, nigeriano e a un certo punto parlava del modo in cui lui ha compreso di avere un'attrazione sessuale nei confronti di un suo amico e l'ha messa in questo modo. Uno spirito ha preso controllo del mio corpo, era nel mio sangue e da quel momento in poi ho iniziato ad avere delle esperienze intime e sessuali con il mio amico. Io ricordo che quando mi ha detto queste cose era presente anche una operatrice lesbica che ha avuto una reazione lateralmente contraria, di shock proprio rispetto a questa affermazione, ha mostrato proprio con il suo linguaggio del corpo rivolgendosi a me, di essere contrariata rispetto a questa affermazione e questo mi ha colpito molto perché ho pensato che avrebbe potuto procurare una rottura nel legame che si può creare con il richiedente asilo e a quel punto ho cercato di ricostruire la situazione dicendo aspettiamo un attimo, vediamo dove ci può portare questo tipo di discorso magari da questo punto riusciamo a capire delle altre cose non fermiamoci unicamente a questo punto. La seconda testimonianza invece riguarda un verbale di diniego che ha ricevuto Shek che è un richiedente asilo gambiano e qui chiaramente c'è un altro esempio di fraintendimento culturale rispetto al fatto che nel verbale c'è scritto che il richiedente non ha dimostrato sufficientemente in maniera adeguata il proprio orientamento sessuale, se non in maniera generica e non ha parlato di questo con nessuno dei suoi familiari, neanche con un amico in realtà nella sua testimonianza questo ci lascia molto, ci lascia capire di quali sono i parametri di valutazione i paradigmi di valutazione sono chiaramente improntati è il mio telefono io continuo altrimenti mi brucia il tempo chiaramente improntati a delle categorie di interpretazione delle questioni dell'omosessualità e della transessualità chiaramente bianche, di classe media, italiani, eccetera però di fronte a questa situazione i richiedenti asilo rifugiati che ho incontrato e questi sono altri due che vi presento Lamin e Jamal reagiscono comunque non passivamente cioè cercano di far fronte a questa situazione di difficoltà nel farsi capire nell'argomentare la propria identità sessuale di fronte a un'utilità che decide poi praticamente l'esito della propria domanda e qui appunto vi parlo di Lamin che è un ragazzo gambiano guardandolo non si ha la minima idea che possa essere gay in quanto un ragazzo rientra proprio nello stereotipo del maschio africano eterosessuale muscoloso con una collana al collo atteggiamento cioè vestito quasi da rapper per intenderci e lui ha ricevuto inizialmente un diniego e questa è stata la motivazione una delle motivazioni fornite lui ha dimostrato ha mostrato segni di affetto in un luogo pubblico con il suo fidanzato nonostante fosse consapevole delle conseguenze che poteva rischiare ecco e sembra strano che se ne sia andato senza sapere che cosa sia accaduto al suo partner nonostante la relazione che li univa di questo parla per esempio una nostra collega Manuela Salsedo ma anche Danny Sakin quando mettono bene in evidenza secondo me la centralità dell'idea dell'amore romantico che lo ritroviamo anche qui cioè nel senso il vissuto della propria omosessualità di questo richiedente non metteva in gioco questo aspetto dell'amore romantico e gli viene gli viene fatto una colpa ecco in questo diniego quando abbiamo parlato di come è andata la commissione anche del diniego che ha ricevuto lui mi ha detto questa affermazione che ho trovato in fondo alla slide sono andato in commissione pensando che avrebbe valutato soltanto la mia storia senza curarmi del mio modo di essere di apparire in quanto la mia omosessualità non è visibile e sono andato nel modo esattamente in cui io sono perché ci sono anche persone gay che sono come me cioè molto mascoline un altro tipo di strategia che ho ritrovato invece è quella di Jamal che invece è di nazionalità nigeriana è un po' effemminato è un ragazzo che è stato modello nel suo paese ha fatto sfilate di moda ci tiene molto al suo aspetto cioè come si presenta e e questo è quello che lui mi ha raccontato rispetto a al giorno in cui è andato in commissione e lui dice devi mostrare in commissione che la tua storia ha una chiara adesione rispetto a quello che tu dimostri mi dispiace dire questo ma ho semplicemente mostrato quello che la commissione voleva vedere quindi mi sono vestito ho enfatizzato mi sono vestito come una sorta di drug queen per mostrare che ero al 100% gay è così che funziona quindi mi avvio alle conclusioni e si può vedere credo da questi brevi cenni il fatto che i discorsi sui fraintendimenti culturali mostrano anche alcune pratiche di controllo sono in atto dei processi di sessualizzazione racializzazione culturalizzazione di questi migranti queer africani e un esempio è quello che vi ho mostrato prima cioè una centralità anche dell'idea del discorso improntato al coming out cioè si aspettano che queste persone abbiano comunque detto della propria sessualità a qualcun altro che l'abbiano vissuta esattamente come la vivrebbe un uomo omosessuale italiano bianco di classe media invece le vite di questi richianti asilo i loro discorsi in modo in cui si rappresentano vanno in un'altra direzione con delle identificazioni che sono caratterizzate da opacità e ambiguità quindi cercando di un po' recuperare il discorso che si faceva ieri rispetto ai tre livelli di cui parlava Messerschmitt e che sono al centro poi del famoso articolo in cui viene rivisitato il concetto di egemonic masculine di quello del 2005 scritto con Connell volendo cercare di far dialogare la prospettiva queer con i main studies possiamo tentare di includere queste esperienze di richiedenti asilo rifugiati con cui ho lavorato all'interno dei tre livelli di cui parlava ieri Messerschmitt e a quel punto possiamo dire che a livello globale si può parlare di un modo di operare delle organizzazioni internazionali umanitarie comprese le ONG che propongono delle pratiche di fatto neocoloniali delle politiche di rappresentazione che vanno in quella che Nicola Mai e Calogero Giametta descrivono come sexual humanitarianism a livello regionale quindi a livello anche nazionale riscontriamo come le commissioni d'asilo tendono a conferire lo status di rifugiato a migranti queer che rispecchiano diciamo determinati tipi di aspettative non so bene se si può parlare a questo livello di un omonazionalismo nelle pratiche e nei discorsi forse una forma particolare in Italia una forma soft di omonazionalismo e a livello locale invece nell'interazione proprio che i ricadenti asilo rifugiati che ho incontrato hanno con attivisti gay e lesbiche avvocati operatori sociali e le commissioni si può dire che vi è una selezione tra determinati tipi di forme di maschilità e altre che invece non si adattano a determinate aspettative quindi vi è una attitudine a promuovere modelli omonormativi che favoriscono una certa immagine di richiedente asilo rifugiato ideale rispetto a un'altra ecco io credo di aver concluso e vi ringrazio per l'attenzione è molto interessante peraltro quando parlavi dell'incomunicabilità legata alla presenza di codici culturali così diversi pensavo alla mia esperienza nel studio della tratta delle donne nigeriane per cui a volte è veramente difficile e complicato leggere quello che ti stanno raccontando quando parlano del giugiu del fatto che l'amica è morta non perché è stata ammazzata dal racket ma perché per colpa del giugiu quando hanno questo approccio un po' magico anche al quotidiano e per cui mi viene da pensare che bisognerebbe intervenire a livello locale introducendo la mediazione culturale come dimensione necessaria perché altrimenti l'incomunicabilità è un rischio molto probabile poi trovo anche interessante questo discorso che la conformità al modello di maschilità gay e femminato cioè proprio lo stereotipo di un certo tipo di maschilità subordinata diventa un criterio di accesso che è l'esatto contrario di quello che ci raccontava ieri Tatiana quando parlava dei padri gay dove lì invece è il contrario tanto più ti conformi al modello eterosessuale nel momento in cui costruisci una famiglia perdi i tratti stereotipati della effeminatezza e ti normalizzi allora quello è un criterio di accesso alla cittadinanza e qui invece è il contrario vuoi lo status di rifugiato devi mettere in scena perché poi è quello che fa sostanzialmente una delle persone che tu hai intervistato devi mettere in scena un certo tipo di maschilità subordinata stereotipata perché è quello che loro si aspettano poi vedrete che ci sono dei punti di contatto molto forti tra le due relazioni io farei così raccoglierei le domande ora perché poi rischia che si perda come dire la reazione a caldo però poi rispondiamo cioè rispondete dopo qualche mese fa c'eri anche tu a Padova abbiamo fatto un seminario con Dani e c'erano anche alcuni rappresentanti che lavorano in queste commissioni territoriali c'era Dani ne abbiamo parlato molto quando si dice che c'è in corso un processo che di fatto è un processo di colonializzazione in questo detto te non dobbiamo dimenticare che lo statement che questi commissari avanzano avanzano sempre in prima istanza è dal nostro punto di vista tutti i richiedenti asilo per motivi legati all'orientamento sessuale meriterebbero protezione per cui è un colonialismo non so se esiste la categoria un colonialismo buono c'è tutta una razionalità strumentale che è legata al fatto che funziona dunque lo usiamo non ce ne frega non ce ne importa niente del fatto che noi stiamo imponendo categorie di maschilità siamo perfettamente consapevoli delle trappole però dal momento che funziona noi le dobbiamo usare da un punto di vista se vuoi etico per cui c'è una strana rivendicazione etica dell'uso del colonialismo perché funziona e salva vite io ricordo le persone che ci han detto che questo tipo di interpretazione ci credevano molto ed erano molto convincenti e è come se ci dicessero per voi studiosi è facile dire che siamo colonialisti però guardate che la realtà dei fatti è molto più complicata di come la mettete voi prima dopo la domanda che volevo farti è questa evidentemente c'è molto di più ti chiedo la domanda c'è anche in queste pratiche la costruzione culturale di una maschilità premoderna aggressiva tipica delle culture da cui questi migranti arrivano salve a tutti volevo soltanto una chiederti se potevi poi elaborare un po' di più il discorso che fai sull'uomo nazionalismo perché in questo in questo contesto sto faticando un attimo a capire come ci arrivi ecco e poi forse una curiosità se avevi raccolto oppure avevi sentito di storie di vita di persone che invece non avendo un'identità queer o non eterosessuale risolvevano per utilizzare la chiave dell'orientamento sessuale o di genere al fine di ottenere la richiesta di asilo scusami l'asilo altre domande? thank you danni for a very fascinating presentation I just have a question about the way that you framed gender in relation to homonormativity normativity and gender normativity Stefano, perché ora avevamo le due?